estate 2019 una bea estate calda calda oggi c'è il piano d'emergenza per la calura adesso i comuni che ha indetto un piano speciale anche al mio comune sandonna di piave e in questo piano speciale di emergenza dice che le persone che hanno una possibilità di dare un posto refrigerante al di là del frigorifero del freezer e alle persone anziane che lo facciano e allora siccome migo sta bella piscina vero invitare le mie amiche per dare refrigerio alle persone anziane siete contenti renata franca con tutto il cuore cari ma non si può andare a mangiare un geato sotto l'ombria di un albero benedetta ma guarda come che te siete fada ti pare che ti manca anche il geato dai dai renata e di silvana perché non ti vieni dentro con noi altri perché non sono anziana cari ma se te la nostra età si renata ho capito ma dipende come se si sente dentro perché anziane se non dentro meno sono anziana mi spero di non negarmi però qua dentro ma ti salvo me renata non è che si abbastanza di gommoni e di roba ti manca qualcosa altro renata tutto quello che ti avete messo e quanto goda stare qua dentro? dicono che le ore più calde vanno dalle 10 alle 18 e altri stai qua a muoio e darei che avere un filo di frigo fino ai 6? sì nel frattempo mi vi porto un bicicletto di acqua nel bicocchino vi va bene? grazie bene bene adesso che ho permesso beh che mi vado a fare un caffettino buona estate a tutti buona estate grazie grazie Sivana ma mi scommi se ho già aver freddo pensate vanti ai 6 grazie a tutti